Gentili telespettatori, buona giornata. Continua l'attacco abbastanza ridicolo di Matteo Salvini a Giorgia Meloni. Caro Salvini, hai distrutto il centrodestra, sul Quirinale hai fatto una Quirinalata, stavi andando in ufficio da Meloni, sei sparito, non ti sei fatto più sentire, sei corso dalla sinistra che ti ha telefonato, vieni che abbiamo un candidato e sei andato lì ad approvargli Mattarella quando Meloni e Berlusconi ti avevano detto Mattarella no. L'ultima delle ipotesi, ma Mattarella no. Tu zitto zitto sei andato lì e l'hai fatto eleggere e poi sei sparito. Number one, che capitano, il capitano che sparisce. Ecco, successivamente all'elezione del Quirinale Giorgia Meloni, furiosa, si vedeva anche dall'espressione facciale. Dice nei programmi televisivi e nei giornali che Matteo Salvini si è comportato in maniera folle. Avrebbe dovuto utilizzare altre parole, ha utilizzato la parola folle. Salvini che cosa ha fatto? Al posto di stare muto, perché l'ha combinata grossa, ha cominciato il contrattacco. Ma questa è una delle caratteristiche fondamentali di molte persone, della gran parte nell'essere umano. Quando l'essere umano viene attaccato, che cosa fa? Quando si sente nell'angolo, contrattacca cercando di ribaltare la cosa e ribaltare le accuse. Tu mi dici che io distruggo la coalizione? No, sei tu che la distruggi. Come? Come? No, tu dici che io sono una banderuola. No, sei tu una banderuola. Cioè il contrattacco con la menzogna che ripete la stessa cosa ribaltata. In modo che lo spettatore dice, ah ma tutti e due dicono che sono delle banderuole. Allora chi è che ha ragione? Magari chi non ha ascoltato bene e l'iter dice, ah beh, dicono la stessa cosa, è colpa tua, è colpa tua, sei tu, sei tu, ma uno dei due sta mentendo. Uno dei due lo sta dicendo solo per un tornaconto politico personale. In questo caso è Salvini. Ma attenzione, la mia non è una presa di posizione a priori. Quello che io vi racconto è la realtà, ma non la mia realtà. La realtà non è una mia visione, una mia opinione. È una fotografia di quello che succede. È una fotografia di quello che succede. Quindi Salvini, in un angolo, con la qui rinalata più sommato tutto quello che ha combinato in quest'anno, ha deciso che doveva dire a Giorgia Meloni voi siete quelli delle ideologie sconfitte dalla storia, noi non siamo con voi, noi non concentriamo niente con voi. E in Fratelli d'Italia sono rimasti a bocca a peggio. Ma cosa sta dicendo questo qua? Ma è andato bene. Oggi continua perché lui crede così di aizzare il suo elettorato contro Giorgia Meloni. Allora, cos'è successo nel suo elettorato? Oltre la metà. Perché adesso stiamo parlando di oltre la metà. Un partito che al 16,7%, come diceva l'ultimo sondaggio, non ha perso la metà. Perché qui siamo a oltre la metà del picco che aveva avuto. Oltre la metà. Quindi gli elettori che ha perso la Lega sono oltre 8 milioni. Allora, dicevamo dell'elettorato. Una metà se n'è andato. Non ha retto alle storielle che racconta Salvini, la Meloni, di qua. Una metà dell'elettorato ha detto, va per favore. E se n'è andato. Di questa metà, piano piano, si sgretola e se ne vanno. Piano piano, piano piano. Ma rimane uno zoccolo duro di quelli fedeli al capitano del carroccio che vogliono non vedere. Che fanno finta di non vedere. Che continuano a dire, ma comunque è il capitano. E il capitano è il capitano. Diceva, perché? E perché sì. Ok. Siamo al tifoso salviniano. Il tifoso salviniano è ancora con la sciarpa che fa ole ole. Sai quelli da stadio, no? Quelli che, dice la tua squadra, fa schifo. Non è vero. È la migliore del mondo. Vinceremo la Coppa dei Campioni. Ecco. Il tifoso ragiona per tifoseria. Cioè, non valuta il fatto. Al tifoso non interessa che il giocatore o l'allenatore fanno pena. Il tifoso dice, la mia squadra, quindi la devo difendere comunque. Ecco. Qui ci sono ancora i tifosi che sono tanti. E prima che riescano a capire realmente che l'allenatore non funziona, ci stanno mettendo più del dovuto. Oggi Salvini arriva a dire, se non si recupera lo spirito di squadra, non si vince. Io auguro non ci sia qualcuno che ambisca essere il più forte dei perdenti. sta dicendo a Giorgia Meloni, ma tu cosa vuoi fare? Essere il più forte dei perdenti? Ma io mi chiedo, senatore Salvini, il più forte dei perdenti? Il centrodestra era maggioranza. Maggioranza. Lei e Berlusconi lo avete distrutto. E adesso dite, ah, Giorgia Meloni, te che sei da sola, cosa vuoi essere? La più forte dei perdenti? Come dire, vuoi essere il primo partito ma perdere le elezioni? Voi capite che questo discorso non ha senso. Come? Tu distruggi il centrodestra e poi dici, ah, ah, che fai? Il forte dei perdenti? Eh? E allora cosa dovrebbe fare Giorgia Meloni? Entrare nel governo e abbracciare tutti? Scusate, sono arrivate in ritardo, faccio ancora in tempo, eh? È rimasta qualche tartina da mangiare? Cosa c'è per me? Ci spartiamo qualche poltrona, eh? Cosa mi date? La presidenza della Repubblica ce la siamo già giocata. Cosa mi date? Mi fate presidente della Camera? Eh? Ecco, cosa vuol dire Salvini? Che Giorgia Meloni è in ritardo sulla spartizione del potere? Che deve avvicinarsi alla sinistra, se no le cose vanno male? Eh? La sinistra è uno scudo di protezione? Eh? Ci siamo capiti? Che vuol dire sta roba qua? Cosa vuol dire? Che vuoi essere il più forte dei perdenti? Allora ho ragione io, quando penso che Salvini e Berlusconi preferiscono distruggere il centrodestra che far governare Giorgia Meloni. Perché Giorgia Meloni non sarebbe la più forte dei perdenti se voi non aveste distrutto il centrodestra. Eh Salvini, prima di parlare le parole ti tornano indietro. Bisogna riflettere prima di parlare. Parlare in maniera astuta, no? Se tu vuoi fare le scarpe a Giorgia Meloni devi essere astuto, furbo. Ah già, sto parlando di Salvini, scusate. Andiamo avanti. A me interessa vincere, dice, ma non una vittoria a fine a se stessa o per andare al governo. Salvini, tu sei al governo. Diteglielo. Mandategli un'email, un sms. Salvini dice, a me interessa vincere, ma non una vittoria a fine a se stessa o per andare al governo. Andiamo avanti. Il governo per me non è un fine, è un mezzo per cambiare le cose. Ingoiando i rospi. Prova a governarci tu con la morgese o con Speranza. Caspiterina, povero Salvini. Governa con la morgese e Speranza. Deve ingoiare i rospi. Ma lui è nel governo per cambiare le cose. E che cosa avresti cambiato? Scusi, senatore, ma che cosa ha cambiato lei nel governo? Fa le finte litigate e poi vota tutti i provvedimenti? Senatore, i suoi discorsi fanno acqua dappertutto. È per questo che oltre 8 milioni di italiani hanno detto bye bye ai Fiedersen, goodbye. Arrivederci a tutti.